Chi l'ha scritta, chi l'ha scritta, si immagina che una bambina, o meglio un angelo travestito da bambina, ogni mattina, ogni pomeriggio, passava e lo salutava a questo nonnino che stava lì seduto vicino a casa della nuora, a casa di riposo, insomma, stava dunque che abbandoniamo il tuo povero piccino, si intitola un raggio da sola, meno mazza in nuora chiede, accucita a un bastone, scettate a sabaneseggio, passata da giornata, non già ne batta notte, niente da vede, niente da monna, ma anche i maschi lo vanno a sento, e chiarisci il bacio mento. Una piccina, vespa e vespa, gli dà tutta questa merenza, tutti i due, si ferma, io ho visto, e qui mi hanno a chiarezza, c'è da me tutti i due, e come scegli io su un uomo, con uno sforzo, alziamo la capa, una sorrisa riesce a fare, una piccina che è buona, che vuole ricrire, stringendo in meno un vecchio, stupanzire pure qua, ma basta di darci un picco di cuore, per meglio farla cambiare ancora, grazie. E io quando l'avevamo, mi viene la paglia dura, perché purtroppo ho visto degli anziani, settantenni, in ottima salute, efficienti, con poco zappa, tutto un po' di tempo.